Ha fatto tappa a Taranto presso l'auditorium Tarentum, il Sara Safe Factor, un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell'educazione stradale dei giovani, nato dall'impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni, in collaborazione con ACI Sport e l'Automobile Club di Taranto, per gli studenti delle quinte classi dell'Istituto Maria Pia di Taranto, un testimonial d'eccezione, il campione automobilistico Andrea Montermini. E' proprio da questi ragazzi che in odore di patente o l'hanno appena presa o la stanno prendendo, saranno i piloti di domani sulle strade, per cui secondo me è molto importante potergli passare dei concetti. Stiamo cercando di dire loro attraverso gli amici di ACI Sport e della Sara e dei campioni di quattro ruote e di due ruote, quelle che sono le regole principali da seguire, al fine di evitare incidenti e quindi le conseguenze che tutti quanti conosciamo. Illustrate anche le regole da seguire quando si è alla guida di una moto, di una bicicletta o di un monopattino. Importante rispettare chi sceglie forme di mobilità dolce. Te le dico che cosa dicono gli automobilisti nei confronti di monopattini, no? Lei perché mi ha fatto questa domanda? Eh lo so, lei ride però. E ciclisti fanno sempre in mezzo alla strada che intracciano e fanno. E io dico, quando faccio il mio intervento, se in strada e in pista vincessero le regole e venissero applicate, sicuramente saremo a parlare di molti, molti, molti meno incidenti in Italia.